Certezze sui tempi della riapertura e garanzie da dare ai lavoratori, alle utenze e a tutta la città di Pescara. E' quanto chiedono i consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico che questa mattina hanno indetto una conferenza stampa davanti alla struttura delle Naidi per sollecitare la Regione, proprietaria dell'impianto sportivo, a dare risposte certe sul futuro della struttura di Via Livenza. L'11 di luglio c'è stata una grande festa di inaugurazione, erano presenti un po' tutti a livello regionale, l'Iris, Febo, il Presidente Sospiri, il Consigliere Tessa e il Sindaco Masci. Addirittura furono anche benedette le strutture, però il 15 di luglio, la data da loro indicata, non è successo assolutamente nulla. Poi hanno indicato la data dell'inizio di agosto e anche all'inizio di agosto la struttura è rimasta chiusa, poi dopo ferragosto e anche dopo ferragosto la struttura è ancora chiusa. E' per questo che oggi siamo qui, per chiedere certezza, perché ormai siamo prossimi a settembre, ci sono molte famiglie, voglio ricordare che le Naidi avevano 1300-1400 accessi giornalieri, ci sono molte famiglie che naturalmente chiedono se si possono riscrivere qui, non c'è una campagna di abbonamento, non c'è la possibilità assolutamente di riscriversi e molte famiglie ci dicono che stanno scegliendo altre strutture natatorie. Poi c'è l'importanza anche della salvaguardia professionale delle persone che ci lavoravano. Ad aprile del 2019 erano 33 i dipendenti, ciascuno di loro ha circa tre mesi di stipendio che avanza ancora dalla precedente gestione, 25 di loro, quelli che sono rimasti e che non hanno trovato altre attività, hanno nel frattempo raggiunto per mezzo della CGL un accordo verbale con la Pinguino, che è la società capofila delle altre tre associazioni per la gestione provvisoria delle Naidi fino al luglio del 2020, ma anche loro non hanno nulla di sottoscritto e non è normale che sia così perché non c'è ancora la disponibilità della gestione della struttura. Poi c'è anche un'interpellanza presentata in Consiglio regionale proprio da me e che riguarda il proseguo del project financing. Qui c'è una società che ha proposto alla giunta di centro-sinistra, alla giunta precedente, di investire 10 milioni di euro per far ritornare le Naidi a quella struttura prestigiosa che era una volta, che ci ricordiamo anche noi da piccoli. Ecco, quella proposta, la giunta nuova il 20 maggio del 2019, l'ha inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, ma ad oggi non è stato neanche pubblicato l'avviso e noi sappiamo che dalla pubblicazione dell'avviso all'affidamento, se non ci sono ricorsi, occorrono almeno sei mesi di tempo. Insomma, si è veramente lenti da questo punto di vista, ma soprattutto mancano delle certezze per le famiglie, per le associazioni, per la stessa squadra di pallanuoto di Pescara e naturalmente anche per i dipendenti.